o chi tu sei? o chi c'è? e che cercai? che volevi me? no cercao un ragazzo ce l'avevo fissato e mi aveva dato un affare e ascolta che la fumo ce n'è c'è rimasto un po' d'erba ma d'altronde siamo a posto è difficile trovarla da farina ma sento la voce quella e basta ma io volevo i charas si i charas agosto sono andati tutti in ferie marrocchini ma dice ma di seti ce ne rimasti ma quindici c'è troppo giù metta quindici ecco ti mi dai i pacchi allora senti una cosa io ti lascio no woman who cry ho un ventino ascolta che al minimo un cinquantino cinquantino dai su dammelo un ventino e un cinquantino un cattaccio di merda speriamo ti schiacciano sulla tua strada ora mi hai presa fame quasi assi un panino alla cioccolata burro e marmellata dai lui dammelo un ventino dai chiamare le guardie chiamare le guardie se tu vuoi fumare un cinquantino tu devi schiacciano chiamare se no un ti fa male quest'estate fanno fumare guarda che fa un cazzo di merda tu sei vorrei dire che ce ne sarà più di me mi fa male il capo guarda eh ragazza forza guarda forza lasciami le testa di cazzo allora guarda se tu vuoi fumo tu devo andare in garcetiti da quella parte grazie 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 istes Grazie.